Chiudiamo con i precedenti perché a Venezia il Pescara ha vinto due volte, la prima nel lontano 48-49, 2-1 al verdetto finale, la seconda in epoca più recente nel 91-92. Serie B, allenatore del Pescara naturalmente Giovanni Galeone, in quel Pescara c'era Max Allegri che ispira così il primo gol realizzato da Rocco Pagano. Possiamo vedere le immagini, un pallone col contaggiri, un suggerimento chirurgico potremmo dire così, prezioso per Rocco Pagano che infila il portiere del Venezia. Davvero una splendida azione, il raddoppio, lo stacco maestoso di Giacomo Di Cara, tra l'altro il primo gol in maglia Biancazzurra, 0-2 su angolo di Pagano, guardate come si alza, sale in cielo Giacomo Di Cara e poi il 2-1 nel finale di Andrea Poggi, terzino della Venezia dell'epoca. Passiamo con le immagini al 95-96, campionato di Serie B, Vecchiola, Sebastiano Vecchiola, cross, il colpo di testa di Cervone, il Venezia in avvantaggio, il Pescara allenato da Franco Oddo, entra Carnevale al quindicesimo della ripresa, gli fa spazio Gianluca Colonnello, il raddoppio. Prima però c'è l'espulsione fiscale, l'arbitro di quel Venezia Pescara, secondo Giallo espulso Zanutta, Pescara in 10, batte Pellegrini, il colpo di testa per Entorio di Vecchiola, 2-0 per il Venezia, era il febbraio 1996, dunque 23 anni fa nel finale accorcia le distanze, Andrea Carnevale su calcio di rigore. Passiamo con le immagini al 96-97, dopo 11 risultati utili consecutivi, si ferma la corsa del Pescara di Deglio Rossi, 7 vittorie, 4 pareggi, perde a Venezia, 2-0, 8 gol clamoroso di Salvatore Alfieri sugli sviluppi di un calcio di punizione incredibile. L'autorete di Salvatore Alfieri, difensore dell'epoca del Pescara, il raddoppio della Venezia su calcio di rigore, Morgan De Saktis atterra un attaccante della Venezia, Bellucci se non vado errato, il gol di Silenzi su calcio di rigore, il primo di quella stagione per l'attaccante della Venezia. Qui siamo con le immagini del 2003-2004 in vantaggio della Venezia con Saverino, il tracciante dal limite, nulla da fare per il portiere del Pescara, Saul Santarelli, il raddoppio dell'ex Maurizio Rossi. Finirà dunque con il seguente risultato, Venezia 2, Pescara 0, l'ultimo precedente, 2004-2005, allenatore Gianni Simonelli, c'è il gol sugli sviluppi di questo cross, giubilato, spizza il pallone, Brelier, il francese che poi sarà espulso, sblocca il punteggio. Il pareggio su una pennellata sul calcio franco di Daniele Russo, collaboratore di fiducia di Montella, tecnico della Fiorentina, 1-1, 2004-2005, Serie B, nel finale, Thomas Job, un grandestro, il palo rischia la frattura, il Pescara sfiora il colpaccio sul campo del Venezia, il Pescara di Gianni Simonelli.